un saluto agli amici di medico snake benvenuti in questo nuovo unboxing sono in auto perché sono andato direttamente io a ritirare il pacco all'ufficio postale perché era da giorni che non arrivava partiamo così subito a freddo senza andare dopo la sigla anche perché la sigla è venuta prima quindi il pacco eccolo qua ne voglio solo dirvi che questo unboxing fa parte della rubrica mitico rubic e sì come potete immaginare dal nome della rubrica qui dentro dovrebbero starci tre cubi di rubic top di gamba ma andiamo subito ad aprirli allora dato che non ho nessun attrezzo per aprire mi avvalgo della chiave dell'auto che più o meno fa lo stesso lavoro allora vado un attimino sempre se riesco ad aprirlo aprire questo cavolo di pacco vediamo un attimino sì dai vediamo tutto ecco qua ci siamo ragazzi ci siamo allora partiamo subito partiamo subito vediamo un po' sì top di gamma e uno come avete ben potuto immaginare sono tre cubi di rubic top di gamma della gun poi vado a prendere gli altri due li faccio scendere un attimino qua abbiamo l'altro top di gamma che li apriamo man mano e qui ci sta l'altro allora ragazzi le confezioni la dicono tutta allora partiamo da quello che dovrebbe essere il 3x3 no scusate il 2x2 allora e sono tutti dei cubi magnetizzati della canna arrivano dal venditore a cui ho contattato sì allora ragazzi oltre che la packaging che è fatto abbastanza bene vedete all'interno abbiamo tutta la manualistica qui il 2x2 adesso arriva il momento pellicola fantastico fantastico allora vediamo un attimino bene ragazzi fantastico davvero però non sento che il magnetico ma si dovrebbe essere magnetizzato vabbè si aggira anche abbastanza bene questo 2x2 adesso finalmente anche 2x2 c'è il suo senso nelle soldi si ragazzi gira molto molto bene e 2x2 è finito andiamo dopo allora lo rimetto nella confezione sì allora plastiche sono di quelle ottimali per quanto riguarda e poi devo dire che hanno anche un buon feeling nel fare speed solving io non sono un professionista però questi cubi della canna beh la dicono tutta ragazzi allora possiamo questo prendiamo l'altro che è il 3x3 ragazzi eccolo qua eccolo qua allora ecco qua ecco qua i 3x3 miei cari amici di nifo snake momento pellicola anche qui come bello come bello girano anche già abbastanza veloci questi cubi no veramente ragazzi sono veramente veramente dei buoni questi cubi questi qua però non sento il magnetico al suo interno che fanno il lavoro ma come potete vedere io non utilizzo un sifop utilizzo un semplice metodo da stati ecco qua anche lì abbiamo finito anche lui ha le stesse plastiche del 2x2 questo è il gun 356r diciamo che il settaggio è fatto abbastanza bene come potete vedere quello che a me piace molto è il logo della canna ma adesso rimettiamolo in confezione e qui abbiamo anche diciamo quello che permette di settare il cubo per ogni centrale ok ok lo siamo no questo unboxing non credo duri molto però devo dire che mi piace mi piacciono mi piacciono molto allora possiamo il gun 356r e passiamo a lui il terzo doppio di gun gun 460m un 4x4 questo è quello che a me piace di più allora confezione leggermente diversa dagli altri due ed eccola qui in un involucro in plastica lo vado ad aprire qui non abbiamo nessuna confezione ed eccolo qua allora sì ragazzi allora qui abbiamo un bel po di cosette su questo 4x4 che bello un momento dell'isola sempre riuscitissimo e qui riesco a vedere molto bene i magneti al suo interno e anche lui gira molto molto bene sì i magneti al suo interno si vedono e come strade centrali girano bene anche quelli esterni e non è male non è male allora oltre allo 4x4 che sta in confezione troviamo anche qui troviamo anche qui diciamo il cacciavite mettiamolo così che permette di regolare il cubo e poi abbiamo anche un sacchettino che ne permette il trasporto ragazzi davvero questa sì che è un top di gamma fantastico allora io vado a farmi un attimino la solve qua allora 4x4 per vedere come gira questo cubo anche se già lo posso già no ragazzi davvero devo dire che questi cubi della can hanno veramente un buon feeling buon feeling che direi poco secondo me e direi poco per davvero che questi cubi hanno veramente un ottimo feeling allora se non parlo perché sono impegnato in questa solve i miei cari amici di mi dico se ne cura devo dire che sono già a buon punto la costruzione di quasi tutti gli spigoli devo dire che il settaggio per me adesso va bene così allora adesso mi ci devo un po' abituare e credetemi sarà anche difficile la scelta su quale main utilizzare perché io come main se vi ricordate dal video precedente utilizzavo dai non è male sì ragazzi davvero gira molto molto bene allora devo dire che questi cubi mi piacciono un casino adesso li devo solo provare magari di tutti e tre vi porterò un video completissimo e deve ancora arrivare il video dell'altro cubo se mi ricordo bene il boiù e monfang mini m4x4 allora li metto tutto nelle confezioni beh devo dire che sono dei cubi veramente fatti fatti molto bene anche dalle confezioni allora ragazzi vabbè dopo li rimetto un po' con calma e li richiedo tutti allora me li rimetto qua infatti come potete vedere il mio cubo lo tengo qua quello là che utilizzo come principale allora io me li metto tutti qua a terra li richiudo però adesso penso che devo andare bene ragazzi allora come al solito l'animazione non parte se questo video vi è piaciuto se questi cubi vi sono piaciuti innanzitutto fatemelo sapere qua in basso con un commento lasciate tutti i vostri like e senza animazione anche questa volta perché la sto preparando e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita ma soprattutto condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale voglio ricordarvi che mi trovate anche su Instagram chioccio la miticosnake dove posso stare in contatto con tutti voi magari vi aggiornerò proprio lì per quanto riguarda le prove su questi tre cubi della canna di questi tre top di gamma e noi ci vediamo sicuramente domenica prossima con un nuovo video ciao ciao